Sono Valeria Lingua, ricercatrice in urbanistica presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, dove dirigo il Laboratorio Original Design, in cui ci occupiamo di progettare e rappresentare il futuro dei nostri territori. In particolare ci occupiamo di metodi e strumenti per la pianificazione territoriale e urbana nelle aree metropolitane e nelle unioni dei comuni, attraverso la definizione di una piattaforma interattiva finalizzata a favorire il dialogo tra le pubbliche amministrazioni. Per me la ricerca è una scelta di vita e sapere che il mio lavoro può contribuire a migliorare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e il loro rapporto con i cittadini è una grande soddisfazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.